Una bella ragazza, un giorno conosce un bel ragazzo di buona famiglia, bello, alto, simpatico, ma purtroppo molto timido. Allora, per farlo spronare un po', un giorno se lo porta a casa e gli comincia a dire Sai, sai, amore, sì, dimmi, amore mio, lo facciamo un bel sessantanove. Allora lui, sessantanove, ma che cos'è? Ah, è un gioco, un gioco, sì, sì, facciamo così, fai quello che ti dico io. Allora il ragazzo, fiducioso, vabbè, distendiamoci. E si distendono tutti e due, dopodiché la ragazza gli dice al ragazzo Allora, ora tu fai una cosa, metti la testa nelle mie gambe, in mezzo alle mie gambe, e io metto la testa in mezzo alle tue. Ah, sì, 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 e vedi che cosa succede? Così si distendono e cominciano. Dopodiché, esattamente un minuto dopo, alla ragazza scappa una scorreggia. Allora il ragazzo, ascoltando la scorreggia, allora la ragazza, scusa, scusa, non volevo, non volevo, non lo faccio più, non lo faccio più, non ci pensare. Allora il ragazzo, sai, siccome mi veniva un pochino di schifo, no, no, non succederà più, non succederà più. E si rimettono di nuovo all'opera. Dopo un po', alla ragazza scappa un'altra scorreggia, allora il ragazzo, non ce la fa più, si alza, si prende vestiti e sta per andarsene. Allora la ragazza, ma che fai, ti sei offeso, perché te ne stai andando? Allora risponde il ragazzo, eh cara mia, non ce la faccio a sopportare le altre 67. Ui, 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 ui.